Ed eccoci qui al Dondi Multistore di Vigarano Mainarda oggi per una doppia inaugurazione. Io sono in compagnia del titolare Pierpaolo Dondi. È una tripla inaugurazione. Oggi apriamo finalmente Gnam, il bar ristorante, Cave Home che è un negozio di decorazione e ovviamente il Christmas Village come l'anno scorso raddoppiato. Il Dondi Multistore infatti ci sorprende continuamente, abbiamo imparato a conoscerlo lo scorso anno ma quest'anno ha ancora più novità, ha ancora più divertimento. Assolutamente sì, quindi facevamo divertimento prima anche quando non c'era un locale. Quest'anno addirittura abbiamo un'arena dedicata a tutti gli spettacoli che partono oggi pomeriggio e tante altre sorprese che troverete tutti nel calendario online nel sito. Io vi ricordo che l'esposizione della Dondi Multistore è dedicata soprattutto in questo momento al Natale. Infatti si raddoppiano le possibilità di acquisto tra complementi d'arredo, idee e regalo qui alla Dondi Multistore e davvero adesso ci potete passare tutta la giornata, dalla colazione fino a cena. Il nostro slogan, dalla colazione alla cena e anche il dopo cena a dire la verità. E poi l'angolo Cave Home dove potrete davvero arredare la vostra casa in una maniera particolare ma soprattutto chic. È una ditta grossa di Barcellona che è un gusto molto internazionale che sta piacendo tantissimo. Grazie, allora noi vi aspettiamo? Vi aspettiamo tantissimi dalla colazione alla cena e anche il dopo cena.